Pronti via ragazzi, non c'è tregua, veramente si gioca ogni giorno, praticamente sono più giorni di calcio, di partita che di allenamento. 10 grete a pronosticare, 20 squadre totali, già stiamo alla quinta giornata di Serie A, il tempo sta volando, no non è vero, stiamo addirittura alla sesta, pensate. 10 grete, turno infrasettimanale, primo turno infrasettimanale, ora vi darò tutti i pronostici, appunto, primo iniziale però vi invito ad iscrivervi al mio canale perché ogni giorno faccio uscire dei fantastici contenuti e lasciare un bel like a questo video. Io visuale l'ho messa per così, per chi si fosse perso l'ultimo video ho cambiato visuale in modo che qui vi possa mettere per intero le partite, senza che mi ingombri la visuale con la mia testa o con il mio ciuffo. E niente, e niente, prima di incominciare però vi volevo dire appunto quali risultati avevo azzeccato la scorsa giornata. Perché le prime due non le ho pronosticate perché il video l'ho fatto uscire il giorno dopo, quindi non le ho messe nel video. A partire da Milan-Verona io ho azzeccato, appunto, Milan-Verona, Sassuolo, Juve e Lazio Monza non le ho azzeccate, Poi ho azzeccato Empoli-Inter, Atalanta-Cagliari, Fiorentina-Udinese e basta. In pratica su otto partite male, ha fatto il 50%, male, 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 male. Siamo abituati a molto meglio quando ho fatto appunto i pronostici le scorse giornate ancora. Quindi una media del 50% si può fare, si deve fare molto meglio, anche perché ho fatto molto meglio nei video. Quindi incominciamo a pronosticare questa sesta giornata di Serie A. Allora, 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 alle 20.45, primo match, ci sarà appunto Juventus-Lecce. Domani alle 20.45 a Torino si giocherà Juventus-Lecce, appunto, con Allegrica annunciato che manterrà titolari Gatti e Szczesny, una Juve bruttissima contro il Sassuolo, la big che è andata peggio nella scorsa settimana. Uno tra Chiesa e Vlaovic dovrebbe riposare, io spero Vlaovic perché Chiesa ce l'ho al fantacalcio e Vlaovic ce l'ho contro, quindi sarebbe Allegri mi farebbe un favore. E io a Torino, nonostante io spero il Lecce vinca, lo spero con tutto il cuore, devo dare retta all'oggettività. La Juventus, secondo me, vincerà contro il Lecce, 1-0, 2-0, la Juve è obbligata a dare delle risposte positive, i giocatori sono obbligati a dare delle risposte positive e l'ambiente è con la Juventus, o meglio, non tutti, però tralasciando questo, secondo me, la Juve ha l'obbligo di vincere la gara di domani. Ora, entriamo nella parte clou della giornata, perché alle 18.30, mercoledì, ci sarà appunto Cagliari-Milan. Alle 18.30, al Castellu, allora, per noi tutti, io spero con tutto il cuore che il Cagliari farà lo sgambetto al Milan. Spero e credo, perché secondo me il Milan non uscirà dallo stadio del Cagliari con i tre punti. Da romanista lo spero, perché se il Milan non vincesse e la Roma, attenzione, vincesse contro il Genova, non come ha fatto col Turino, allora lì si andrebbe ad accorciare molto la classifica, perché la Roma dà il meno 7 sul Milan, andrebbe a meno 4 e sarebbe già un'altra sinfonia, ok? Considerando che manca tantissimo al campionato e che, ovviamente, la Roma si deve prendere d'obbligo un post in Champions. Secondo me il Cagliari potrà, non vincerà, ma potrà provare a fare la partita, potrà, ovviamente, nel senso, rimarrà tutto all'indietro e si vorrà portare a casa perlomeno un punto, nel senso, per smuovere la classifica, il Cagliari ci si aspettava molto meglio per la rosa che ha, può fare ancora tanto bene. Un punto significherebbe andare, dipende dalle altre cosa fanno, ma potrebbero andare anche qualt'ultimi, qualt'ultimi, sì, potrebbero, potrebbero, che è una gara molto, ma molto difficile contro il Milan, ma anche per il Milan è una partita molto difficile, perché ricordate che i campi più insidiosi da andare ad affrontare in questo campionato di Serie A sono, appunto, Cagliari, fidatevi di me, Cagliari, da Romaista ci sono passato, abbiamo anche Torino, ragazzi, è difficile, l'ho detta pure prima della Roma, a Torino, su sette big, tre faranno risultato, secondo me, l'Inter, forse il Milan e la Juventus, basta. E altri campi delle piccole sono il Sassuolo, ecco, le tre squadre più difficili da affrontare sono queste, in casa loro, ovviamente. Il Milan affronta il Cagliari, che allo stadio loro è un tabù, praticamente, nonostante ha perso con l'Inter, secondo me sarà molto difficile per il Milan e finirà, appunto, in pareggio. Magari segnerà Lovumbo, lo spero, magari pareggerà il Cagliari, secondo me sì, lo spero, appunto, anche questo. Ma in contemporanea si giocherà una gara che passerà sott'occhio, perché, appunto, stiamo parlando di Empoli, Salernitana, allo stadio dell'Empoli, Andrazzelli sta riprendendo la mano con i suoi giocatori, secondo me, segnatevela, l'Empoli questa non la perderà. Sarà una grande occasione contro una Salernitana incerottata, nel senso ferita. La Salernitana, ovviamente, ha fatto bene solo la prima giornata, fatalità contro la Roma, ovviamente. È una Salernitana debole, quart'ultima, sta andando male, molto male. Andrazzelli è l'unico sufficiente, anche i vari Mazzocchi, i vari DA che non sta giocando, stanno deludendo. Forse anche Oshoa sta andando bene. E quindi, secondo me, l'Empoli ha la chance, perlomeno, di smuovere la classifica, di dare un piccolo segnale. Io, il segnale sarebbe, io ci sto per la lotta salvezza. Sono la più debole, ma ci provo. Un punto servirebbe come il pan a tavola per l'Empoli. E secondo me, con la convinzione, considerando anche che giocano in casa loro, ho visto un bel l'Empoli contro l'Inter. Non escludo che con la Salernitana si potrebbe portare a casa o almeno un punto. Ragazzi, sempre al 18.30 ci sta un altro match, cioè, proprio oltre un match, sarà una diretta gol. Perché ci sta un altro big match, o meglio, un match con una big, cioè Verona, Atalanta. Prima non vi ho elencato Verona come campi ostici, ma anche Verona è un campo super, super, super difficile. Molto difficile. Io là ci sono andato a giocare. E' un campo, ragazzi, fidatevi, molto difficile da sbancare. E secondo me, secondo me, finirà appunto in pareggio. L'Atalanta farà un piccolo passo falso. Magari, io dico magari, perché se l'Atalanta fa un punto, va a 10 e la Roma vince, andrebbe a meno 2 dell'Atalanta. e magari se qualche altra big fa un passo falso, la Roma accorcerebbe molto per i posti in Champions e non solo. L'Atalanta è una buona squadra, però secondo me, come la Roma, come la Lazio, come la Juve, deve trovare la Costanza. La Costanza in questo momento hanno solo due squadre, l'Inter e forse il Milan. Secondo me, appunto, fra un passo falso a Verona, l'Atalanta ci ha abituato a fare questi piccoli passi falsi contro le piccole in casa loro. E quindi, appunto, anche con un'Atalanta senza scamacca, per esempio, che si è rotto, un'Atalanta magari anche un po' incerottata, potrebbe, appunto, pareggiare contro il Verona. Io, onestamente, non capisco perché Gasperini non fa giocare Baccher, che è un quinto da sinistra di assoluto livello. Io l'ho presa il falso a calcio per 20 crediti, la scommessa, però Gasperini non vuole farlo giocare. Non si sa il perché, ma non gioca. A me sembrava un ottimo esterno, ma non gioca. Il fatto sta che secondo me l'Atalanta non vincerà a Verona. Ok, perché due ore dopo ci saranno tre gare. Inter-Sassuolo, Lazio-Torino e Napoli-Udinese. Allora, andiamo per grati, perché prima analizziamo Inter-Sassuolo, che secondo me verrà vinta dall'Inter. Non ci saranno molte sorprese. Ha mali in cuore, perché ovviamente secondo me la Roma non può vincere lo scudetto, però tutto è possibile. Magari Mourinho in bocca ha una grande stagione, perché ci ha abituato ai miracoli. Lukaku di Bala vanno bene. Che ne sai che magari la Roma si può trovare a Natale, seconda. Può succedere, la Roma è lunatica. Quindi io spero che... Comunque reputo un Inter una diretta concorrente con la Roma, nonostante secondo me l'Inter è la più forte. Quindi spero l'Inter perda, ma la ragionando con il cervello, secondo me l'Inter non può e non deve perdere, perché senza dubbio l'ha più forte. Ad Empoli, diciamo, ha lasciato un po' a desiderare, però comunque i tre punti se li ha portati a casa. Ha fatto quello che non ha fatto la Roma col Torino, cioè giocare male e portarsi a casa i tre punti. La Roma non l'ha fatto, anzi ha giocato bene e non se li ha portati a casa i tre punti. Per carità pareggiare a Torino non è un risultato da disdegnare, perché Torino è difficile. Vedrete anche la Lazio come farà fatica in casa della Lazio all'Olimpico contro il Torino. Vedrete. Il Torino è veramente una bella squadra. Nonostante questo però l'Inter vincerà contro il Sassuolo. La Lazio col Torino, secondo me, rimane ferma con un'altra X. Cammino anche della Lazio male 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 in campionato. Andrà a cinque punti e, appunto, secondo me, la Lazio pareggerà con il Torino. Mi aspetto un match, appunto, come Lazio Monza, magari un 1-1, 1-0-0, 1-2-2 e non escludo la vittoria del Torino. Quindi mi gioco tipo un 2x2, un pareggio o una vittoria del Torino. La Lazio, secondo me, non vincerà perché, raga, il Torino è veramente una squadra super rognosa. Molto bene organizzata tatticamente, tecnicamente, atleticamente, in tutti gli aspetti. Quindi il Torino farà bene. Dopodiché abbiamo anche Napoli-Udinese. Allora, anche qui, Napoli diretto concorrente per la Champions, per la Roma, appunto, con la Roma. Diretta concorrente. campionata a desiderare per gli ex campioni d'Italia. Secondo me, però, con l'Udinese devono dare una risposta concreta. Una vittoria secca e precisa. Segneranno, secondo me, Victor Rosimè, che mi ha sbagliato di ricordare il Fanta Calcio. Spero possa fare bene, per lo meno. E forse può segnare Kvicak-Varaskelia. Finalmente, secondo me, è arrivato il momento di sbloccarsi. Poi, ovviamente, la Serie A prima del Fanta Calcio, quindi spero che il Napoli non faccia risultato contro l'Udinese. Ma se proprio lo dovesse fare, spero che almeno segno Simen. Però, ragionando con la testa, secondo me, il Napoli vincerà contro l'Udinese, che sta andando veramente male, perché è terzo e ultimo in classifica con soli tre punti. Lotterà la salvezza con la Roma e con la Lazio, probabilmente. Dai, a parte gli scherzi, secondo me il Napoli vincerà contro l'Udinese. E niente, andiamo avanti con i posticipi di Serie A. Ok, perché alle 18.30 ci sarà Frosinone in casa del Frosinone. Spero che la Frosinone sbagli il colpo in canna, perché non la reputo una concorrente con la Roma, però comunque levarsela è utile, perché la Frosinone è una squadra rognosa. Però, nonostante questo, credo che la Frosinone vincerà contro il Frosinone, è un Frosinone che sta andando bene, però a livello di Rosa non ha niente a che vedere con la Fiorentina. Delusione più totale è l'attacco della Fiorentina, che, ok, ha dato via Jovic, ha mantenuto Cabral, ha preso però Nzola e Beltran. Beltran non sta giocando. Nzola invece gioca, ma fa male. Fa molto male. Nzola veramente sta facendo male. E Isher al fantagalcio non ha fatto né bonus né malus. Veramente delle prestazioni senza farmi senza luoghi per Nzola, però comunque un attaccante della deve fare la differenza. Delusione totale di Nzola con la Fiorentina, però penso possa essere la partita per sbloccarsi per lui. Quindi io pronostico una vittoria della Fiorentina in casa del Frosinone. E poi, appunto, la penultima gara, sempre 18.30, quindi contemporanea con Frosinone e Fiorentina, sarà Monza-Bologna. Monza-Bologna è una classica gara tra due squadre che, devono fare un classico campionato da metà classifica. Il Monza perché l'anno scorso era una neopromossa, quindi quest'anno deve riconfermarsi. In sintesi, quindi, secondo me sarà un classico pareggio tra Monza e Bologna. Potrebbe essere un 1-0-0? Sì, perché comunque le loro difese vanno abbastanza bene. Come potrebbe essere un 1-1? Quindi una partita non troppo squilibrata, una partita abbastanza equilibrata con due squadre coperte. Secondo me il pareggio ci potrebbe stare tutto. Un favorito, onestamente, non lo so trovare perché il Bologna viene da un ottimo momento di forma avendo fermato il Napoli e il Monza ha fermato ora Lazio, quindi fondamentalmente sono due squadre che hanno fermato due big. Quindi è una sfida, secondo me, totalmente alla pari e appunto finirà, a mio modesto parere, in pareggio. Ragazzi qua facciamo le corno su tutto quello che posso dire perché sembra che porto stica quando pronostico la Roma. Genova-Roma. Questa mi puzza sta sfida. Guarda se ora devo andare a fare un altro tranello là a Genova. Se non vincemo a Genova io neanche il super sfogo faccio. Proprio mi ritiro, guarda. Non lo faccio il super sfogo. Genova-Roma. A me mi sa di sgambetto sta partita. Però va bene, andiamo avanti. Secondo me, ma secondo me cosa? Cioè la Roma deve vincere. La Roma, allora, l'obiettivo realistico per la Roma è la Champions League. Io in questo momento tra le prime quattro vedo. Inter, Milan, Juve e Roma. Ok? E vincere l'Europa League. Obiettivi realistici della Roma. Ok? Poi il sogno e lo scudetto non avverrà mai. Non avverrà mai. Però il sogno e lo scudetto non ci pensiamo perché non ci dobbiamo pensare. Però ovviamente se tu riesci a fare, ma non succederà mai, nove punti in tre partite potrebbe succedere qualcosa. Potrebbe mettere l'ansietta magari all'Inter. Perché io all'Inter non vedo un reale rivale oltre il Milan. Posso vedere la Roma. Se vabbè. Se il Mourinho è in grana, se il Lukaku, Di Balla, Renato Sanchez, Paredes, Smalling, Ndika, in grana, no? La Roma è un'ottima squadra. È uno squadrone. E con il Genoa non ci sono scuse. Perché è vero che la Roma deve ancora entrare in ritmo. Rotazione. Non stiamo su noi neanche al 60% del nostro potenziale. Però devi vincere a Genoa. Perché se no i punti dall'Inter, che sono già dieci, diventano tantissimi. E ora c'è ancora il tempo per recuperare dall'Inter. Anche se la vedo difficile. Però c'è ancora il tempo. Se non vince a Genova, il tempo si stringe di tanto. Però, guardando l'obiettivo realistico che è il quarto posto, in questo momento il quarto posto dista 5 punti. Quindi nel caso la Juve non vincesse, la Roma andrebbe a 3 punti o qualcosa del genere. Anche se ovviamente il Lecce non è che lo calcoli come pretendente alla Champions. Per ora! Poi non si sa. Se il Lecce vince contro la Juve io ci firmo. Quindi secondo me la Roma vincerà contro il Genova. Di nuovo assegno Big Rom. Non so di bala cosa può fare perché io in trasferta di bala non l'ho mai visto strafare. Però secondo me la Roma vincerà e si porterà appunto a casa i tre punti. Scrivete qua sotto, visto che questo video sicuramente starà in premier. Secondo voi la Roma? Secondo voi la Roma dove arriverà? Secondo me in Champions. Non arriverà a settima, non vincerà lo scudetto, andrà in Champions e vincerà l'Europa League. Detto questo, ragazzi, questo è stato il mio video e il mio contenuto. Se vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel like e se non lo siete ancora iscrivetevi al canale perché ho visto tramite YouTube Studio che il 50% di voi che guarda i miei contenuti non è iscritto. Quindi vuol dire che con un battito di dita io potrei stare a 2.000 iscritti se tutti voi vi iscrivesse, vi iscriveste. Quindi fatelo, così arriviamo subito a 2.000 iscritti e siamo tutti più felici. Tra poco arriverà anche lo special 1.000 iscritti, credo farà una cosa abbastanza carina. Niente, noi come sempre ci vediamo, ovviamente commentate qui sotto i vostri risultati. A un prossimo video.